La si potrebbe fare per terza, quindi o la si potrebbe fare per quarta e quinta, quello che volete oppure si possono usare le gighe irlandesi che sono sempre re e sono più divertenti a suonare Adesso io faccio mi minore così perché di solito sono da solo, quindi non ho accompagnamento però di per sé basta fare un... queste note quindi... cambio di unità, passi il la è un cambio di unità un po' infame ma adesso vedete perché? quindi devo fare l'accordo di mi quindi ho bisogno di sol di e si da tol solo al primo, devo fare... stesso tema ma il la cambia re forte così... finale dal cambio lag al cambio re puoi anche finirla prima tipo... non 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 non